Diciamo che la regione ha indicato ai termonizzatori di dare precedenza a tutti gli impianti TMB del territorio, scusi non degli impianti TMB ma di termonizzazione. Noi cercheremo di portare questo rifiuto fuori dal Lazio ma non all'interno di termonizzatori nazionali ma verso cementifici e forse anche altro che oggi non posso comunicare.